Due alpinisti, uno di 25 anni, residenti a Bergamo, e l'altro di 48 anni, di Treviglio, in provincia di Bergamo, hanno perso la vita durante un'ascensione fra la Svizzera e la provincia di Sondrio. Entrambi volevano raggiungere la parete nord-est del Pizzo Badile, in direzione della via Cassina, al rifugio Gianetti, nel territorio comunale di Val Masino, Sondrio. Dopo la segnalazione del mancato rientro, sono scattate le ricerche fino al tragico ritrovamento. Due alpinisti sono morti dopo un volo di oltre 350 metri, forse colpiti da una scarica di sassi.